Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Oggi mentre camminavo al sole in questo giorno di festa facevo una riflessione importante, ovvero mi chiedevo come è possibile che andando avanti nel tempo, quindi dai 45 ai 50 anni in poi, quasi tutti sono carenti di vitamina D. Eppure è una vitamina che non ho bisogno di seguire delle alimentazioni particolari per averne nei giusti valori, ma è una vitamina che viene sintetizzata normalmente dal contatto tra i raggi del sole e la pelle. Poi è stato fatto uno studio intorno al 2011 dove sono stati divisi due gruppi di persone, persone più giovani e persone un po' più grandi, quindi dal primo gruppo dai 25 ai 35 anni, l'altro gruppo intorno dai 45 ai 50 anni. E si è visto che aumentando nell'età le persone, anche se si espongono al sole, riescono a sintetizzare minor quantità di vitamina D. Questo come ce lo possiamo spiegare? Sicuramente con l'evoluzione della specie umana. Noi siamo passati da essere l'uomo primitivo che andava in giro nudo d'inverno e d'estate a prendere il sole e ad oggi che lavoriamo, lavoriamo in spazi chiusi, siamo sempre vestiti e di sole ne prendiamo poco. Poi a mio avviso il rapporto con il sole nel tempo è cambiato proprio dell'essere umano. Infatti noi siamo passati a stare appunto a contatto con il sole tutti i giorni, anche in giorni più freddi e ad oggi che ci ritroviamo a vivere spesso in ambienti chiusi, vestiti e nel momento in cui abbiamo le ferie dal lavoro, quindi che ti devo dire, i periodi centrali di agosto che fa più caldo, ci esponiamo. E a quel punto anche nelle ore più calde possiamo avere delle problematiche a livello della pelle. E allora forse è il rapporto con il sole che è sbagliato. Il consiglio è quello di esporsi quotidianamente al sole, fare delle passeggiate all'aria aperta, magari evitare gli orari più caldi e soprattutto se hai dai 40 ai 45 anni inizia ad effettuare dei controlli ematici dei valori di vitamina D, perché se sono carenti sarà importante iniziare ad integrarli. Grazie a tutti per l'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!